Rigo Piano, incessante l'opera dei soccorritori, sale il bilancio delle vittime. Neonata muore ad Avezzano, probabilmente si è trattato di cause naturali. Intesa per il rilancio della cartiera Burgo, verrà sottoscritta dalla regione e dai responsabili dell'azienda. Parco archeologico dei Conicoli di Claudio, finanziamento ufficializzato della Camera di Commercio. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Purtroppo nessuna buona novità dall'hotel Rigo Piano, dove prosegue incessante l'opera dei soccorritori per cercare di salvare vite umane. A cinque giorni dalla valanga, che ha travolto la struttura, le speranze di trovare persone in vita, si fanno sempre più esigue. Bilancio provvisorio del disastro e di 11 sopravvissuti. Sette morti, 22 dispersi. Le operazioni di soccorso con decine di uomini sono proseguite anche la notte scorsa, nonostante la pioggia che anche stamani è caduta sulla zona. Tra la neve della valanga e le maciari dell'hotel, i soccorritori hanno trovato ieri la sesta vittima, un uomo ancora da identificare, mentre le autorità hanno aggiornato il numero dei dispersi. C'è anche una giovane senegalese che lavorava nel resort. Oggi è stato trovato invece il cadavere di una donna. Le operazioni proseguono dunque incessanti, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, con la nebbia e la pioggia che rendono difficile il lavoro dei soccorritori. Due ai fronti dell'enorme valanga, che ha sprigionato, secondo gli esperti, una forza pari a 4.000 tir, pieno carico, che piombano tutti insieme su un edificio. Siamo lavorando, ha spiegato ieri sera Paolo Molinari, del Dipartimento della Protezione Civile, per realizzare delle trincee e consentire così di intervenire anche dai lati della valanga. Per garantire la sicurezza dei soccorritori, inoltre, sono stati piazzati strumenti per monitorare l'eventuale attivazione di nuove valanghe sul versante sovrastante l'hotel. Si tratta di un radar di origine svizzera collegato a due sirene. Una simulazione al computer ha calcolato dislivello, pendenza e tipo di neve, elaborando un modello secondo il quale il sistema darebbe un preavviso di 50-55 secondi prima della valanga. Al di là di ogni sforzo e di ogni precauzione, quella dei soccorritori, che anche il Papa ha spronato ad andare avanti, resta comunque una corsa contro il tempo, perché ogni ora che passa si affievoliscono le possibilità di trovare persone in vita. Ed una neonata di appena un mese di Avezzano, per cause che dovranno essere con esattezza accertate, ma probabilmente per un rigurgido è morta senza che i genitori abbiano avuto la possibilità di fare qualcosa per salvarla. Il dramma si è consumato ad Avezzano. L'immediato intervento dei medici dal 118, chiamati dai giovani genitori, non ha impedito la tragedia. Per la piccola trasportata all'ospedale di Avezzano non c'è stato nulla da fare. Genitori, lei di Celano, lui di Avezzano, hanno fatto del tutto per salvarla. Hanno chiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi e praticato le procedure per riattivare la respirazione. Probabilmente sul corpicino della neonata sarà necessario eseguire l'autopsia per accertare, come detto con certezza, le cause del decesso. Carabinieri della Compagnia di Sulmona, coadiuvati dai militari della Compagnia di Castel di Sangro e dal nucleo cinofili del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise di Chietti, da questa mattina hanno dato corso ad una consistente operazione nella Valle Pelegna in esecuzione misure cautelari in carcere e ad arresti domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in traffico di ingenti, quantità di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Sulmona, Marco Billi, su richiesta del sostituto procuratore Stefano Diafolla, che ha coordinato le indagini a conclusione di una prolungata attività investigativa. Dopo lo scandalo degli elicotteri della forestale Fermi Arrieti per burocrazia e quelli dei Vigili del Fuoco che non possono volare di notte, un'altra denuncia arriva dal CONAPO, il sindacato autonomo del Vigili del Fuoco. Le unità cinofili dei Vigili del Fuoco in servizio in Abruzzo sono state lasciate a casa, mentre nell'inferno di mercoledì scorso sono stati inviati cinofili del resto d'Italia. Tempo sprecato a ritardi evitabili e inaccettabili. Nel dramma che ha colpito l'hotel Enrico Piano, spiega il CONAPO Abruzzo, l'intervento delle unità cinofile, come in altre occasioni, non ultimo, il terremoto di Amatrice, è risultato fondamentale. Quelle dei Vigili del Fuoco in particolare si distinguono da sempre per professionalità, tempestività di intervento, capacità dei cani di adempiere al loro lavoro. L'ennesimo scandalo, spiegano dal CONAPO, riguarda le unità cinofile abruzzesi che potevano essere fatte intervenire in poco tempo sugli scenari di soccorso dell'hotel Enrico Piano, della Slavina di Ortolano o delle innumerevoli segnalazioni di crolli, ma per motivi a noi sconosciuti e incomprensibili, sono stati lasciati parcheggiati a casa. Allo stesso tempo, però, sul Gran Sasso Pescarese, sono state inviate unità cinofile da ogni parte d'Italia, da nord al sud. Evidente è la dura chiusura del CONAPO che politici e dirigenti non hanno la benché minima cognizione del soccorso e intanto in Italia si muore di burocrazia. Un protocollo d'intesa per il rilancio produttivo della cartiera Burgot verrà sottoscritto il 24 gennaio alle ore 11 presso gli uffici del Comune di Avezzano. L'ha annunciato il Vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, aggiungendo che, con il protocollo, le istituzioni garantiranno tempi certi e celeri nello svolgimento di tutte le procedure ambientali, amministrative e autorizzative necessarie per l'avvio dei nuovi processi produttivi. Dopo la crisi occupazionale del 2013, che ha portato alla chiusura della linea 2 e dello stabilimento di Avezzano, è partito, coordinato dalla Vicepresidenza della Giunta regionale, un percorso teso ad evitare tagli occupazionali e nuovi sbocchi produttivi. Da qui la predisposizione, da parte della Burgot, di un progetto di trasformazione produttiva, con l'obiettivo di rilanciare l'attività e tutelare l'occupazione. All'incontro di domani ad Avezzano saranno presenti il Vicepresidente Giovanni Lolli, il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, il Presidente della Provincia dell'Aquila Antonio De Crescenti Is, i vertici della Burgo, tra cui l'amministratore delegato Ignazio Capuano, il Direttore del Personale Franco Montevecchi, il Direttore dello Stabilimento di Avezzano, Fiorenzo Pesenti e il Segretario regionale di CGL Cisle Will. Prima il freddo, poi la neve, dopo il terremoto hanno dato il colpo di grazia alla già fragile economia della Marsica e di tutte le altre zone interne della provincia. I prese negozi chiusi, ormai da settimane, che se non sono aiutati non avranno la forza di ripartire. Lo affermano in una nota il Presidente e il Segretario di Confertigianato Imprese di Avezzano, Lorenzo Angelone e Flaviano Cosimati. Le istrutture fanno presente, subiscono danni importanti, le dite fornitrici non consegnano, i corrieri sono fermi, gli uffici pubblici, le banche, le scuole chiudono, tutto si ferma, le imprese rimangono, anzi aumentano i problemi. Chiedono alle amministrazioni locali, quindi regione e comuni, di prevedere da subito un'immediata sospensione, se non uno sgravio totale o parziale, di tutti i tributi locali, diretti e indiretti, nonché la sospensione di tutte le rate dei finanziamenti in corso. Inoltre, che ci si attivi da subito con il Governo per la sospensione dei tributi a livello nazionale. Le nostre amministrazioni locali concludono, comune in primis, dovranno ora dimostrare di saper governare questa drammatica situazione, altrimenti per le nostre medie e piccole imprese, con i loro dipendenti, si prospetterà la fine. Un contributo di 250 mila euro per la tutela e la valorizzazione del Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio. È questa la cifra che la Camera di Commercio Aquilana ha messo a disposizione per un'iniziativa che ha come scopo quello di rilanciare alla grande il turismo nella Marsica. Alla ferma del protocollo erano presenti tra gli altri il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, quello di Capistrello Francesco Cicciotti, presidente della Camera di Commercio di L'Aquila Lorenzo Santilli, presidente del Consorzio di Bonifica Gino Di Bernardino, il presidente del GAL Terre Aquilane Rocco Di Micco, ma ascoltiamo le loro dichiarazioni. Conferenza stampa per la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la tutela e valorizzazione del Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio. L'Abruzzo, o meglio la Marsica in particolare, non sempre riesce a valorizzare le proprie risorse, le proprie bellezze, ma questa volta sembra fare sul serio. Noi siamo con il presidente del GAL, Rocco Di Micco, i Cunicoli di Claudio, una delle bellezze, ma non la sola di questa terra. Siamo arrivati, siete arrivati al punto di valorizzarla. Era ora, dico io. In realtà abbiamo iniziato già da qualche anno a fare questo tipo di progetti. Tu sai benissimo che i primi lavori sono stati fatti dal GAL due anni fa con la messa in sicurezza di una parte del Cunicolo del Ferrario con dei fondi, in verità pochi, però era un progetto sperimentale che ha dato i suoi frutti, tant'è che poi la sovrintendenza con archeologia a chilometro zero ha ricevuto moltissimi visitatori perché i Cunicoli meritano, avremo sicuramente la possibilità di rilanciarli come volano del turismo locale, del turismo marzicano. Poi sono arrivati anche questi ulteriori 250 mila euro dalla Camera di Commercio che fanno parte di un progetto un po' più ampio e poi ci sarà anche il fondi leader, quindi il GAL che metterà ulteriori fondi. Il progetto qual è? Quello di portare un'industria, che è quella del turismo nella Marsica, quindi di creare le infrastrutture, la possibilità di far sì che ci sia un flusso turistico che possa, non dico cambiare, ma perlomeno sostenere un'economia che avrà poi la possibilità di dare lavoro anche ai giovani, perché poi in realtà questo è il vero obiettivo, non solo far conoscere le nostre valenze archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche, che non hanno nulla da invidiare a nessuno, io di questo ne sono pienamente convinto, ma daranno la possibilità a tutti anche di lavorare con il bed and breakfast, insomma con tutto ciò che ha possibilità di essere legato al discorso turismo. Il Comune di Avezzano ha investito molto in questo, tu sai, io faccio anche il consigliere comunale, ho la delega al turismo e quindi ci ho lavorato molto e ci stanno portando dei risultati importanti, non solo per i cunicoli di Claudio ma anche per tutte le valenze archeologiche e paesaggistiche della Marsica, il laghetto d'Ortucchio, la cava abbandonata che sta sopra Ortona, insomma ci sono progetti innovativi, notevoli. Oggi però parliamo di questo contributo della Camera del Commercio che è sicuramente un qualcosa di importante perché 250 mila euro daranno la possibilità di fare dei lavori importanti e imponenti ai cunicoli di Claudio. Senti Rimico, in quanto tempo ha pensato di utilizzare queste somme? No, questi sono lavori molto veloci, devo dire la verità, perché si parla di una recinzione, siccome ci sono dei vincoli archeologici quindi anche la recinzione sarà fatta in maniera molto leggera, non è una cosa invadente. La pedonalizzazione per far sì di scendere giù con l'illuminazione a led, pure quelli sono lavori veloci perché non invasivi, non dimentichiamo che stiamo parlando comunque di un'opera archeologica importante e quindi nelle opere archeologiche non si possono fare lavori che abbiano un'invadenza particolare, quindi sono lavori leggeri ma che hanno la possibilità di rendere fruibile a tutti. Quindi io immagino che nell'arco di tre o quattro mesi potremmo dire i lavori conclusi, tolti i tempi tecnici, tu sai benissimo che bisogna fare l'appalto, bisogna poi stare in 60 giorni di tempo, quindi tolti i tempi tecnici i lavori non dureranno più di quattro mesi. Indicativamente, ma veramente, indicativamente quante persone poi potranno trovare un'occupazione in questo settore? Guardi qua il limite è alla fantasia, nel senso che noi stiamo lavorando su diversi fronti, non ultimo anche la creazione di un volo diretto dalla provincia di Hubei a Pescara, all'aeroporto di Pescara, tant'è che c'è stato un incontro con il presidente Mattoscio e un vice ministro cinese proprio per creare questo. Stiamo cercando di rendere appetibile la nostra piccola provincia a livello turistico, poi i risultati è difficile dirgli oggi, Plinio, perché si inizia a lavorare, si comincia a seminare e poi bisogna sperare in una stagione profigua, però i presupposti sono tanti e ce ne sono molti. E poi il turismo è una cosa che va increscendo, cioè nel senso può anche iniziare con piccoli passi, ma poi secondo me può raggiungere numeri importanti che possono anche eventualmente cambiare l'economia di un territorio. Non sarebbe la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima, bisogna però lavorare bene e creare prima le infrastrutture per non bruciare poi l'evento, perché se arriva il turista e non trova i bagni pubblici, non trova il parcheggio per i pullman, non trova dove dormire, dove pernuttare, avresti fatto il turismo, il turista morde e fuggi che viene qua, fa la visita e se ne va e non lascia nulla sul territorio. Noi invece vogliamo partire in maniera scientifica per creare tutti i presupposti per un turismo stabile. Poi da qui a dire quale sarà la rigatuta è difficile dirlo ora, però i presupposti si sono tutti. Con il Presidente della Camera di Commercio Lorenzo Santilli e col Sindaco di Pangrazio. Allora una cifra importante per un progetto importante. Oggi la Camera di Commercio fa qualcosa di duraturo, cioè si guarda al futuro con occhi veramente lungimiranti? Duraturo se la comunità locale ha poi voglia di mantenerle le cose che si fanno, questo vale per ogni iniziativa che un ente pubblico fa. Noi riteniamo che questo sia un valore importante per non solo storico di questo nostro territorio ma un valore economico estremamente alto e quindi che è un valore aggiunto per le nostre imprese e per i nostri territori. Quindi il nostro investimento è stato un investimento che riteniamo proficuo. Speriamo che il futuro appaghi questo nostro pensiero e lo condivida. Sindaco, Santilli dice che è un investimento e come tale quindi bisogna utilizzare questi fondi in maniera adeguata? Io innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Santilli perché è un manager di quelli giusti al posto giusto e è lungimirante. Quindi quando è stato assegnato questo finanziamento al Comune di Avezzano e quindi alla comunità marzicana per il rilancio del turismo nel nostro territorio penso che ha visto giusto e ha visto bene. È chiaro che bisogna adesso costituire un'entità che riesca a valorizzare il turismo nel nostro territorio. Noi abbiamo delle eccellenze, c'è la sovrintendenza qui che veramente è stata non solo disponibile ma anche molto compiaciuta di queste nostre iniziative. Dobbiamo fare e trovare delle alternative all'industria che è in calo. Il turismo è uno di quei motivi, con i coli di Claudio, ma abbiamo delle grosse energie ed esperienze storiche in tutta la Marsica. Quindi partire con questa iniziativa penso che è un tasselletto che può essere messo per rilanciare e per andare in qualche modo a competere per l'economia e in economia con il turismo. Quindi è una cosa buona, noi ci siamo, siamo qui proprio per firmare la Convenzione. Santilli, i 250 mila euro usufruibili da subito o ci sono tempi lunghi? I tempi sono quelli delle parte burocratiche per la realizzazione dei lavori e per l'affidamento dei lavori e per la realizzazione. Quelli sono nelle casse e nella disponibilità della Camera di Commercio, quindi verranno trasferiti non appena inizieranno i lavori nelle modalità previste dalle norme. Turismo quindi, Sindaco, per concludere non mordi e fuggi ma bisogna creare qualcosa di stabile, di concreto, di duratura. E per la prima volta siamo in questa sala oggi riuniti proprio per fare una convenzione dove ci sono tutte le parti, la parte produttiva, la parte della sovrintendenza, la parte dello sviluppo col Gallo, la parte pubblica e c'è il comune di Avezzano oltre che chiaramente altri comuni tra cui quello di Capistrello perché vogliamo proprio rendere una cosa dura dura. Le cose, diciamo, spot non ci interessano, ci serve e ci interessa creare un qualcosa che possa dare sviluppo ai giovani e soprattutto agli operatori che vivono nel nostro territorio marsicano. E come è avvenuto anche nel recente passato, sono previsti specifici rimborsi per il blackout elettrico che si è verificato nei giorni scorsi in Abruzzo a seguito delle abbondanti nevicate che hanno causato danni alle linee elettriche. In particolare stiamo parlando di tutte quelle utenze che hanno avuto interruzioni superiori alle 8 ore o 12 ore. Se ripristino della corrente è durato meno di 60 minuti, tale ripristino non interrompe di fatto il calcolo del blackout. In caso di interruzione di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall'autorità per l'energia, il cliente domestico non domestico, con potenze inferiori o uguali a 6 kW, ha diritto a un indenizzo automatico di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino ad un tetto massimo di 300 euro. Per ottenere il rimborso all'Enel o al proprio fornitore non è necessario fare alcuna richiesta. I rimborsi vengono erogati automaticamente entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 giorni dall'interruzione. Nell'indenizzo non esclude, dove venissiano i presupposti, l'eventuale risarcimento del danno, secondo le ordinarie regole del codice civile. Per i clienti che abitano in comuni con più di 50.000 abitanti, alta concentrazione, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive e non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio. Per i clienti che vivono in comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti, media concentrazione, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio. Per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti, bassa concentrazione, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio. A seguito della nota del Centro Operativo Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo del 22 gennaio scorso, il Sindaco di Celano, l'ingegner Settimio Santilli, propone un incontro con tutti i sindaci marsicani per valutare eventuali interventi condivisi da adottare come forma di prevenzione nel territorio marsicano. L'Assemblea Operativa dei Sindaci, prevista per il giorno giovedì 26 gennaio alle ore 18 nella sala consigliare del Comune di Celano, si pone come obiettivo quello di procedere ad un esame scrupoloso di quanto riportato nella relazione redatta dalla Commissione Grandi Rischi in data 20 gennaio 2017 e fatta per venire a tutte le amministrazioni locali abruzzesi, creando disorientamento, panico, perplessità sia nelle istituzioni che nell'opinione pubblica, accentuando lo smarrimento e il senso di precarietà già provocato dagli eventi sismi e cinotti e dalle avverse condizioni climatiche. Il Sindaco a questo punto con alto senso di responsabilità non sottovalutano nessuna possibilità o alcuna forma di iniziativa tendente alla tutela e alla salvaguardia delle persone e delle cose. Dopo l'analisi della relazione si procederà alla formulazione di proposte possibilmente condivise da riportare all'attenzione degli organi regionali competenti. La segreteria forum abruzzese dei movimenti per l'acqua in un comunicato stampa ricorda che erano note le criticità che hanno portato alla tragedia dell'hotel Rigopiano. In Abruzzo fa presente sono decenni che rischi noti vengono ignorati. Per l'area del Rigopiano, la prima mappa elaborata dalla regione Abruzzo, che segnalava criticità importanti, è del periodo 1989-1991. La stessa è stata ripresa e quindi confermata dalla Giunta regionale abruzzese con tanto di delibera il 27 dicembre 2007, con cui è stato adottato il piano di assetto idrogeologico. Le due carte ufficiali mostrano inequivocabilmente che l'hotel Rigopiano è costruito al centro di un'area con colate detritiche, dette conoidi. Sorge, cioè, su un'area rialzata formata proprio dai detriti che arrivano giù dal canelone a monte dell'albergo. Il fatto che ci fosse una struttura resistente non vuol dire granché perché i tempi di ritorno di questi fenomeni estremi possono essere più lunghi di qualche decina di anni. I geologi identificano le aree di rischio non solo attraverso gli eventi già noti riportati nel catastro di frane e valanghe, ma anche e soprattutto basandosi su alcune caratteristiche specifiche del terreno cui ricollegano il tipo di eventi che può verificarsi. E lì questi segnali dovevano essere evidentissimi tanto che da decenni sono evidenziati sulle mappe ufficiali. Insomma, al momento della ristrutturazione principale dell'edificio, venuta circa dieci anni fa, che ha ampliato le capacità ricettive della struttura e quindi il rischio intrinseco, c'erano tutti gli elementi sia sul terreno sia nelle carte per accorgersi dei problemi. Purtroppo risalta anche la gravissima omissione della regione Abruzzo, che si era dotata di una legge sulle valanghe 25 anni fa, in cui si prevedeva l'identificazione per le aree a rischio, potenziali di caduta e la chiusura invernale delle strutture preesistenti in caso di pericolo. I documenti sono lì sul sito web della regione, disponibili a tutti, basta voler cercare. La segreteria operativa forum abruzzese dei movimenti per l'acqua così conclude. Volevamo aspettare qualche giorno per rispetto per le vittime e i soccorritori, sperando in ulteriori salvataggi, ma con l'inchiesta della Procura è bene divulgare questa documentazione. L'uovo e Fabruzzo è indirizzato ieri un appello per la tutela del lupo in Italia al presidente della regione, Luciano D'Alfonso, ad assessori Dino Pepe dell'Agricoltura e donato a Di Matteo, parchi aree protette, e al sottosegretario con delega all'ambiente, Mario Mazzocca. Nel testo, ispirato a un comunicato diffuso dal WWF due giorni fa a livello nazionale, il delegato Abruzzo dell'Associazione Ambientalista Luciano Di Tizio chiede alla regione Abruzzo di ritirare il parere favorevole a suo tempo, incautamente rilasciato al piano per la conservazione e gestione del lupo in Italia, proposto dal Ministero dell'Ambiente, la cui discussione è prevista per domani in sede di conferenza Stato-Regioni e di chiedere ufficialmente di cancellare dal piano ogni possibilità di abbattimento legale del lupo. Si tratta infatti di una decisione che, se mai malaguratamente avvallata, riporterebbe indietro l'Italia indietro di 40 anni. Nel nostro Paese vige la piena tutela del lupo dal 1971, grazie proprio al WWF che lanciò una grande campagna significativamente denominata Operazione San Francesco. L'ultima versione del piano prevede la possibilità da parte delle regioni di applicare la deroga alla tutela della specie autorizzando abbattimenti legali, un'azione che il WWF considera del tutto inutile da nosa perché certamente non risolve il problema dei danni alla zootecnia e può anzi persino peggiorare la situazione rischiando di legittimare il diffuso bracconaggio sulla specie. WWF ricorda che si stima in oltre 300 il numero dei lupi vittima ogni anno in Italia di uccisioni illegali o di investimenti stradali, ai quali si potrebbe raggiungere un numero indefinito di animali abbattuti legalmente, grazie al piano che nel testa un'approvazione nella conferenza Stato-Regioni non prevede più neppure il limite inizialmente inserito del 5% di uccisioni l'anno rispetto alla popolazione massima stimata. Giovedì 26 gennaio con inizio alle ore 17.30 nella sala convegni del Restaurant Cafè Umami di Avezzano, l'Associazione Avezzano Europa organizza una conferenza sul tema e principi della Costituzione Repubblicana. Il relatore sarà il professor Fabrizio Politi, ordinario di diritto costituzionale dell'Università dell'Aquila, studioso di diritto pubblico, autore di numerose pubblicazioni, già titolare di cattedra alla LUIS, preside della Facoltà di Economia all'Aquila. Saranno concessi crediti formativi agli avvocati presenti. Il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara lancia la terza domanda su cui riflettere il 3 febbraio prossimo, quando si ragionerà di comunità solidale, utilizzo degli strumenti di sviluppo e del lavoro necessario per affrontare insieme le sfide. L'associazionismo, l'imprenditoria, la scuola sono chiamati a collaborare in un processo di crescita della collettività da svolgere in stretta collaborazione con lo Stato e gli enti locali. Un lavoro sinergico e coordinato tra le componenti fondamentali della comunità, infatti, si rivela necessario per raggiungere obiettivi comuni di miglioramento. Tuttavia, l'unione è tanto fondamentale e spesso non si concretizza, forse perché manca uno slancio di fiducia reciproca o una predisposizione culturale a lavorare insieme alla pari per raggiungere un obiettivo comune. Ma quale tipo di rapporto di fiducia serve e perché è così vitale per far crescere la collettività? Se ne parla quindi il 3 febbraio, nella Piazza delle Bene Comune, l'incontro è organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, collaborazione con il COGE Abruzzo, esiterà l'auditorio Petruzzi di Pescara. È rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare a lavorare per il bene comune, partendo da un momento di confronto per capire cosa e quanto lavoro ci sia da fare per crescere insieme. Confagricoltore Abruzzo ha reso noto che nella riunione del 20 gennaio scorso, su iniziativa dell'assessore regionale Pepe, si è tenuto presso la Prefettura di Teramo un incontro operativo con il Ministro dell'Agricoltura Martina, a cui sono state rappresentate tutte le difficoltà del momento a causa dell'emergenza neve e terremoto e di tutte quelle che presumibilmente si presenteranno con il disgelo, con frane e smottamenti. Il Ministro si è impegnato nell'attivare ogni leva che prescinde dagli esporzi territoriali, garantendo i seguenti interventi. Pagamento immediato di tutte le misure e superficie, saldo della PAC 2016. Costituzione di un fondo straordinario per il risarcimento danni senza notifica all'Unione Europea. Derugale 102 sia per i tempi sia per l'esclusione dai vincoli, rendere indegnizzabili anche i danni assicurabili. Intervento presso l'Inps per la sospensione dei contributi, intervento presso l'Agenzia Entrate e Ante riscossione per sospensione e pagamenti, intervento presso Abbi per sospensione e pagamenti mutui, integrazione nazionale con intervento sussidiario di altre Regioni per aumentare il livello risorse, impegno di Agenzia nell'attivare una tax force per esame e liquidazione delle pratiche del sistema Abruzzo. La Regione è impegnata nel facilitare le concessioni di gasolio agevolato, raccogliere e organizzare le richieste dei danni anche strutturali, uniformare le direttive di intervento dei servizi veterinari, intervento presso consorsi di bonifica per sospensione canoni. Alcuni di questi interventi prevedono un passaggio con l'Unione Europea, per le azioni regionali si suggerisce una forte sensibilizzazione verso tutti i consiglieri regionali. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie per averci seguito anche oggi. Grazie a tutti.